Verso la Pasqua, quinta tappa, la pazienza. Se io ti chiedo che cos'è la pazienza, forse la tua prima risposta sarà mantenere la calma se qualcuno mi fa arrabbiare. Beh, questo potrebbe essere pazienza, ma io voglio parlarti di un'altra pazienza, che è quell'atteggiamento di fiducia incondizionato nel Signore. Mettere tutto nelle mani di Dio, anche quando, umanamente parlando, certi gesti, certe parole, certi comportamenti, certe azioni, tu non le comprendi. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così distano i miei pensieri dai tuoi pensieri, dice il Signore. Allora la pazienza è attesa che la parola di Dio si compie o si compirà, se non oggi, domani. La pazienza è mettere la propria vita nelle mani del Signore. Allora sì, un uomo, una donna, paziente.